adesso siamo qua nel centro commerciale di Cosa Curno qua e non ci crederete ma Davide ha i cavalli al pascolo nel centro commerciale eccoli la adesso parcheggiamo dovevamo spostarli però c'è troppo traffico penso che si farà domani qua Davide ciao Davide ha mandato il cane come si chiama trago su avanti ma poco che è questo un volto Passi davanti bravo, passi davanti Passi davanti Passi davanti Passi davanti Passi davanti Chi è nera io? Passi davanti Guarda la mia che è lì che ho scoperto Passi davanti Passi davanti Passi davanti Passi i panini Non è che fa le corte Passi 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 Anche Passi 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 Grazie. Quello sono tutte fattrici e hai uno stallone? Ah non c'hai lo stallone? No, sarò dall'altra parte, ne ho due. Perché poi hai anche gli asini, no? Mi dicevi. Asini, cavalli e bacche. Davide ve lo ricorderete dal video di 15-20 giorni fa, qual dà che era? Un mese. È un mese adesso, sì. E non escono di qua, eh? No. La regola non dovrebbe riuscire. Puoi portare a casa la cavalla per fare i muli? Questa qua, questa è bella tozza. Non ne fai i tamuli? No. Non hai provato? Ma qua da noi c'è sotto gli asini che saltano i cavalli. Io ti porto giù l'asino che salta le cavalle. Anzi, noi ne abbiamo, noi là. Il Mario che salta le cavalle. No. Non è lo stesso. No. Non è lo stesso. No. No. Non è il mezzo. No. No. Oh. No. 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 Ma cosa c'hai lì al collo? Satellitari. Così se ti scappano? Lei è il capobranco? No, capobranco è questa. Comunque intanto se scappano stanno tutti assieme. Sì, scappano meno veloce. Hai solo uno in Satellitari. Uno o due per gruppo. Così te le controlli col telefono. Praticamente questa è quella di due anni e questa è quella di un anno. Sono tutte femmine. Tutte e tre sorelle piene. La mamma quella e la mamma da Kesti. E' buona. Sono grassi che nuotano. Allora dicevamo che gli ho detto ma perché non fai i muli no? Lui è il padrone dei prati, guardatelo eh. E' il danno. No, e qua i tuoi amici simpatici, no perché lui ha detto che qua in zona non ci sono asini che saltano le cavalle. Invece i tuoi amici simpatici ti hanno detto l'asino che salta le cavalle è Mario. E qua abbiamo anche Erika che vuole dargli l'erba ai cavalli ma i cavalli non mangiano questa erba qua. No, non è buona, non è buona. Ah sì, dai. Questo è il vero ombrello da pastore. Tutto in legno. E tu stai senza? Stai qua. Stai qua. San Mario racconta ancora qualcosa. Ti rovinano il prato? No, no, racconta, racconta che fanno beneficio a pascolarli. Allora i prati se si pascolano. Tutti che fanno? Tutti devono partorire. Sì. Tutti. Sono dentro due puletri che ho tenuto quest'anno. Quando vanno a partorire? Marzo, aprile. Allora ritorno poi in primavera tarda con i puledri. Una scena spettacolare. Sì, ma l'ho potuto prendere la macchina. Hai visto come ha fatto andare su un cibo? Sì, sì. Il cane è lì a spettacolo. Drago, andiamo su un pezzo che lega i dritti e filmata un po'. Dai, andiamo su un pezzo. Il cane è a lavorare. Vedi come ci sono giù subito. Vedi come ci sono giù subito. Cambi lavoro. Lasci perdere il conto terzista. Ti metti a fare il pastor. Gli farebbe bene un po'. Un po' di puledre così al pascolo. Guardate lo stallone. Ragazzi sbrigatevi perché sta diventando vecchio. Proviamo a farlo montare le cavalle. Monta solo i puledri. Allora Davide rimaniamo così domani mattina all'alba. Li spostiamo. Quanti chilometri facciamo sulla statale? Sarà una decina. Ci sarà da ridere? Ma sì. Qualcosa facciamo? Mettiamo Mario davanti. Mario dorme domani mattina. No, lo svegliamo. No, 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 no. Ho bocciato. Lo svegliamo, lo svegliamo Mario. Sto dietro. Ragazzi buongiorno. Sono qua con Davide come vi ho detto ieri sera. Buongiorno. Guardate qua siamo nell'area industriale. Il centro commerciale e andiamo a recuperare i cavalli. No, adesso andiamo a recuperare Mario. Prima Mario? Prima Mario. Ma si è perso? Il nostro è disperso. Allora buongiorno. Stamattina con il cappello da cowboy. Guardatelo. Attenzione perché è un killer eh. Sei in forma? Sempre in forma. Sempre in forma. Vai. Vedi un po' di là, della stradina di là. Salutiamo Mario e Lorino. Ciao Mario. Altri impegni. Ciao Mario. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.